buongiorno a tutti allora partiamo subito un bless un bless perché stasera ho tre video da fare quindi partiamo subito con i pronostici della terza giornata del campionato di serie a visto che la prima partita la si gioca questa sera alle 20 e 30 quindi prima faccio il video meglio è perché poi se no mi sa che se faccio prima gli altri questo non lo vedete quando milan roma già al secondo tempo perché sapete benissimo con la dsl quindi vado subito a fare i pronostici poi parleremo dell'europa league e delle 21 partite che si sono giocate ieri e poi naturalmente farò un video apposta sui gironi di champions e lì ci sarà da ridere ma partiamo con le partite stasera milan roma sabato l'inter e la juve e domenica tutte le altre perché poi dopo ci si ferma per la nazionale quindi i giocatori devono andare lunedì poi in nazionale e quant'altro perché poi venerdì ci sono le partite di sta nation cup che staremo e ci sarà da ridere va beh partiamo con la partita di venerdì sera milan roma milan roma che secondo me è x2 con gol e con over perché secondo me è una partita con cui ci saranno parecchie rete una partita in cui teoricamente la roma dovrebbe vendicarsi tra virgolette perché non è una vendetta e dovrebbe recuperare i due punti persi con l'atalanta andando a vincere a milano poi molti mi dicono vince il milan vince il milan gli stessi tifosi romanisti sono convinti che vinca il milan per me è un pareggio con possibile vittoria della roma over e gol tutto assieme poi staremo a vedere cosa succederà magari uno squallido 0 a 0 schifosissimo con zero tiri in porto spero di no visto che lo vedrò al bar salterò anche il pasto per vedere la partita visto che sono all'ario soccorso fino alle 8 poi vado a prendere il mio amico lo porto lì al bar e mi metterò lì subito al bar anch'io se mi viene fame mangerò un panino al massimo non è un promuoio veniamo alle partite invece di sabato partendo da bologna inter che mi auguro in un pronto riscatto dell'inter anche se non è una partita semplice anche in questo caso io direi un x2 con over un e mezzo non di più perché secondo me una partita massimo massimo che finisce 2 a 1 per l'inter non ci vedo tantissimi gol se no potreste fare l'under 3 e mezzo volendo però ripeto mi sembra una partita da non troppi gol mi sembra poi magari finisce 3 a 4 o 3 a 3 partita della sera parma juventus parma juventus si dà tutti per scontato il 2 io invece voglio giocare questa doppia anomala 1 2 e ci aggiungerei un over un e mezzo così tanto però so che con l'1 2 l'over un e mezzo non si può giocare però il gol non me lo sento perché può darsi che finisca 3 a 0 per la juve quindi il parma non segna come può darsi che magari botta di fortuna eccetera finisce 1 a 0 per il parma e la juve non segna cosa molto improbabile però veniamo alle partite della domenica le faccio tutte senza stare a dire ci sarebbe fiorentino udinese alle 18 poi le altre sono tutte alle 20 e 30 quindi partiamo da fiorentino udinese che dico uno fisso anche se attenzione a questo udinese che zitta zitta cacchia cacchia pareggio in trasferta vittoria in casa quindi sta mantenendo una media ad hoc però penso che contro questa fiorentina che ne ha rifilati sei alla al povero chievo chievo che tra l'altro aveva messo in difficoltà la juve nella prima giornata non credo si lascerà sfuggire la vittoria quindi fiorentino udinese 1 e over un e mezzo se volete però non so se lo potete giocare assieme però potreste scegliere tra uno e l'altro adesso andiamo per ordine alfabetico partendo da chievo empoli partita pazza perché spiego il chievo è messo malissimo ha perso la prima 3 a 2 con la juve ha perso malamente a tennis contro la fiorentina quindi deve riscattarsi assolutamente in uno scontro diretto contro l'empoli perché questa è una diretta contro corrente per la salvezza anche se ripeto io vedo l'empoli più tranquillo rispetto alle altre squadre che lottano per metterci per non retrocedere però io anche qui mi arrischierei un 1x più gol così mi viene questo 1x più gol su chievo impoli poi abbiamo il derby della ciociaria non me ne vogliano i tifosi laziali perché c'è Lazio frosinone lo direi anche se fosse roma frosinone e io dico uno fisso uno fisso non la Lazio non può lasciarsi sfuggire la vittoria col frosinone uno fisso e ovvero un e mezzo non ce lo vedo il no gol se volete non ce lo vedo il frosinone che segna roma però le vie del signore sono infinite magari giocatevi solo l'uno poi abbiamo una libidine di partita che è sandoria la napoli sandoria napoli io mi giocherei l'x2 con gol o se no se preferite sempre un over 1 e mezzo che va sempre bene abbiamo sassuolo genova sassuolo genova io dico uno x perché sassuolo ha già battuto l'inter quindi può tranquillamente battere anche il genoa però il nix ce lo metto lo stesso perché il genoa è una bella squadrettina poi c'è questo piatec che la mette spesso e volentieri quindi attenzione anche qui potrebbe scapparci il gol non potrebbe essere non potrebbe essere una buona idea e poi abbiamo la capolista la classifica dice così spalla che è impegnata col torino e torino spalla io ci metterei un 1 x perché non credo che la spalla da vincere a torino come non do per scontata la vittoria del toro con la spalla perché e anche qui volendo ci potrebbe stare il gol perché magari antenucci la mette un'altra volta ho dimenticato atalanta cagliari e atalanta cagliari è la partita penso più difficile da pronosticare perché se l'atalanta non avesse fatti supplementari ieri sera avrei messo l'uno fisso tranquillamente ma coi supplementari nelle gambe quindi tanta stanchezza con la tristezza non mi viene il termine diverso diciamo la tristezza va per l'eliminazione clamorosa ai calci di rigore per il più il papo che sbaglia proprio lui uno dei due rigori decisivi non so non vorrei che l'atalanta lo sentisse troppo o ti fa la una partita della peppina e quindi trapazza il cagliari 4 a 0 o sennò proprio per la stanchezza lo scoramento la tristezza tutto quello che volete metterci fa uno squallido 0 a 0 quindi 1 x e mi qua mi fermo perché francamente non vado oltre l'1 x quindi ricapitolando milan roma x2 e gol over 1 e mezzo bologna inter x2 e esagerando l'over 1 e mezzo e esagerando il gol perché secondo me lis 2 basta e avanza poi parma juve ho fatto l'anomala 1 2 e però mi fermerei qua perché come vi dicevo o la juve stravince tipo 3 a 0 o se dovesse capitare quello che nessuno si aspetta c'è una vittoria del parma è 1 a 0 e stop non ce lo vedo il parma fare più di un gol alla juventus quindi veniamo alle partite di domenica partendo da fiorentina udinese delle 18 che ho messo l'uno fisso poi atalanta cagliari 1 x chievo empoli 1 x più gol lazio frosinone 1 sandoria napoli x2 più gol sassuolo genoa 1 x più gol e torino spallo 1 x più gol ecco dove ho messo i gol volendo potreste giocarvi anche l'over 1 e mezzo anziché scegliere la la fissa sul risultato vedete un attimino voi o la doppia se magari vi pagare di più l'over 1 e mezzo giocatevi quello perché se per dire torino spallo uno is vi paga 1 e 20 e l'over 1 e mezzo 1 e 25 magari vi conviene di più l'over 1 e mezzo vedete un attimino voi cosa fare sui gol potete giocarveli in accoppiata bene ho parlato anche troppo speriamo di azzeccarne un po e adesso andiamo a vedere come è andata l'europa league ea vedere quanti risultati ho azzeccato perché temo di averne sbagliati parecchi ciao